Le direzioni sono parte della stessa cosa, siamo un partito insieme. Dal mio punto di vista non esistono mondi paralleli, la casa è una sola. Me lo hanno sempre ripetuto quando ero minoranza, mi aspetto che chi oggi è minoranza sia guarente con quello che diceva prima. Proprio perché è stato minoranza, perché non ascoltare chi oggi è minoranza? Io quando ero minoranza discutevo, portavo la mia posizione e poi rispettavo un principio democratico fondamentale che è il principio del confronto e della maggioranza. Ci si confronta, dopodiché si prende una decisione. Dobbiamo essere seri, gli italiani si aspettano seri e tanto. Siamo. Grazie.